Le finali della UEFA Champions League sono sempre partite uniche, il calcio è il suo livello più alto. L'atmosfera è incredibile, la serie ispira sulle tribune come in campo, due squadre a caccia del successo, una sola che scriverà il suo nome nell'albo d'oro. Milioni e milioni di cuori che battono, a livello di club non esiste nulla di simile. Marcellona che comincia il match con questi 11, terza e che tra i balli, dietro a parte lo confunde con Ignigo Martinez. Punto gara insieme a Frenkie Le Jong come centrocampista centrale, davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. Ancora la formazione iniziale del Newcastle, Dubravka tra i pari. La Schell compone la linea di difesa con Fabio Schell, davanti Isak come riferimento offensivo. Cerca il sostegno dei compagni. Intermetto decisivo in area. Avanza, palla al piede. C'è il taglio in mezzo. Lewandowski! Balla sul pallo, non è finita. Si rimane come prima. Isak. Recupra la palla, intercettato il passaggio. Raffinia. Prova a correre lateralmente il Barcellona. A metri per andare. No! 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 Isak. Longstaff. Guadagni a metri. Almiro. Niente da fare, l'indicazione recupera. Gundogan. Attenzione a Gundogan. Guarda che spiove. E' pressato, attenzione. Longstaff. Appoggia Isak. Prova i flicks in avanti. A metri, a disposizione. Che bravo per Stegen qui! Sbaglia il portiere, attenzione. D'Agnida concede la punizione al Barcellona. De Jong. Lewandowski! Si è allogato qui il portiere e ha sventato la conclusione. Ha spinto bene, ma non era comunque un intervento troppo complicato. Crossa nel mezzo. La sparsa via. Attenzione a Gundogan. Traversione che viene intercettata. Longstaff. Almiro. Supera di netto il marcatore. Lascia partire il traversone. Il tutto è il portiere che sventa il tentativo dell'avversario. Intervento facile. Normale amministrazione. Ci è volato anche dalla conclusione non irresistibile. Alla in area di rigore. Interviene e libera. Vediamo che dice l'arbitro. Interrotto un'azione pericolosa. De Jong. Guarda che finisce comoda tra le braccia del portiere. Da sottolineare. Questo è un errore da matita rossa. Da lì dovevano metterla dentro. Pallone in mezzo. E c'è da Gundogan. Un replay che non penso vorrà rivedere. È un autobus fortunato. Ora deve lasciarsi con le spalle e concentrarsi solo sulla partita. Ed ecco dunque arrivando il primo quadro dell'incontro a 1-0. Ecco Bruno Givaraes. Appoggia a Isaac. Isaac. Grande tempestività di questo intervento. Posso partire in contropiede. Attenzione. Lewandowski. E c'è il gol. Vorono a più due. Adesso mettono una serie. Ipotega sulla coppa. Possiamo apprezzare meglio qui il gesto tecnico che c'è nel gol. Non era facile metterla. Il difensore è praticamente incollato lì. Match che riprende ad allungato portandosi sul 2-0. Giù l'interno. Isaac. C'è deviazione ma non è finita. Lewandowski. Contrasto vincente. Givaraes. Apertura sul trippiero. Si affacciano da 3-4. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Ci sono spazi per il Barça lateralmente. Traversone in aria. Spazza via sul traversone. Occhio a Lewandowski. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro. Sapeva che sarebbe terminato fuori. I Lewandowski può provare. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida. Ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta ad ogni angolazione. Ti fa rubare parte. Trossa al centro. Risolve lui. La gira su João Pelix. Ferma bene l'avversario. Può ripartire. Isaac. Trova Lewandowski. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Lewandowski cercato con questo lancio. Lewandowski. Che gol di Lewandowski al volo. Meraviglioso. Tra il solo decisivo dal quale scopo di contro gol che stiamo rivedendo. Ha quindi concluso sul pallone un po' che rilevandowski. E ha fatto certo. gol che scatena le ire del tecnico in panchina. Le sue urla che si sentono anche da casa. Ce l'ha con la squadra che oggi non sta davvero disputando la sua miglior partita. Finisce la prima frazione dell'incontro qui a Webb. Tutto pronto? Comincia la seconda frazione. Occhio più al contrapiede. La difesa è messa male. La gira su João Félix. Il Barça qui regala il pallone. Isaac. Lewandowski. Attenzione a Lewandowski. Il portiere dice di no. Corre in aria. Angolo che non ha portato a nulla. Lewandowski prova lui. Murato dall'intervento del difensore. Dubravka. Intervento semplice il suo. Gundo Ganna. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Palla per Aizan. Occhio al contrapiede. Ter Stegen. Attenzione. Palla ancora in gioco. Percenta palla. Nuova possibilità. Conclusione che non ha preso il ciro a sperare. Aveva mirato il palo lungo. Se avesse centrato lo specchio probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Lewandowski. Si tomare qui il pallone. Al Miron. La fascia è scoperta e può avanzare. Isak. Occasione. Super Ter Stegen qui. Palla in calcio d'angolo. Ci aspetta in calcio d'angolo. Spazzano via il pallone. Spazzano via il pallone. Spazzano via il pallone. Spazzano via il pallone. Sta avanzando. Rafinha. Possesso per la squadra avversaria. Kimaraes. Isak. Isak. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provotolo poco. Ma dopo la distanza. Ma può c'era, no? Va sotto la doccia. Finisce qui la sua gara. Joao Félix. Prova a correre lateralmente il Barcellona. La giocacorta sul primo palo. Capisce tutto il portiere che spezza questa trama. Occhio a Lewandowski. Occhio a Lewandowski. Bravo qui il portiere. Batte lungo. La respinta non è definitiva. Attenzione. Kimaraes. Tiro respinto. Lewandowski. Hanno spazio per ripartire. Lo supera benissimo. È una buona occasione. Per pochissimo non ha raggiunto il pallone. La dilusione dell'attaccante. Calcio d'angolo per il Barça. La spazza lontana. Lallone filtrate. Attenzione. Occhio potrebbe scattare in rosso. Era già stato ammonito. Collezione il secondo giallo della sua partita. E dunque va fuori. Non si dà pace per questa funzione. Sa di averla condivata grosso. Ma doveva pensarci prima. Cross sul palo lungo. Svetta il pericolo. C'è spazio per la ripartenza. Isaac. Si vuole verso la torta. Ter Stegg la respinta. Falla ancora viva. Azione che non ha portato a nulla. Barça qui regala il pallone. Bruno Chimaraic. Occhio a Lewandowski. Attenzione a Gundo Gani. Ecco John Felix. Grande recupero in aria. Siamo a metri per andare. 300 secondi alla fine. Partita che ha poco da dire. Al Biron. Coppa la palla e fa ripartire l'azione. Raffigna. Si ripartirà con la rimessa per il Barcellona. Taglia in mezzo. Vattaggio che sembra ormai incolmato. L'ultima parte di gara. Difficile che la situazione possa essere ribaltata. Risultato meritato per quanto... Occhio qui. C'è spazio. E c'è il gol. Accorciano le distanze. Forse un po' troppo tardi. Siamo 3-1. Magari non finirà così. L'arbitro concede due minuti di recupero. Raffigna. Alla meglio nell'uno contro uno. Occhio al cross per Lewandowski. Super parata qui. Wilson. Umori molto diversi in campo. Da una parte c'è la disperazione. Dall'altra la gioia incontenibile.